È stato firmato nella sede del Genio Civile di Siena un protocollo per la messa in sicurezza del fondo valle del fiume Elsa. A siglarlo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, insieme ai sindaci di San Gimignano Andrea Marrucci, di Poggi Bonsi David Bussagli, di Barberino Tavarnelle David Baroncelli e di Certaldo Giacomo Cucini. La Regione, ha detto Rossi, finanzierà la progettazione esecutiva delle opere, una o due casse di espansione a Ulignano per adeguare il corso dell'Elsa. Per la prima volta abbiamo delle risorse certe per sviluppare la progettazione degli interventi che sono necessari per la mitigazione del rischio idraulico nell'area di Cusona. L'area di Cusona, in Valdezza, è una parte del cuore produttivo della nostra area, distretto camperistico. È andata bene con l'ultima alluvione del 17 novembre, ma non possiamo aspettare oltre. Dopo la fase di progettazione prevista dal protocollo, saranno richiesti i finanziamenti per la realizzazione delle opere, stimati al momento in circa 3 milioni di euro. Grazie a tutti.